Salve a tutti amici di Transformers, da JustLuca del forum at Robot.it e benvenuti alla nuova video recensione di Transformers, recensione di un prodotto quasi vecchiotto potremmo dire, dato che il buon Ultramagnus Siege è uscito l'anno scorso, dato che appunto Siege è la linea, la prima parte della trilogia War for Cybertron, di cui quest'anno è uscito la seconda parte Earthrise, però diciamo che la linea è ancora in voga, possiamo dire, dato che è appunto uscito su Netflix la prima parte della trilogia cartonei mati appunto dedicata a Siege, sempre War for Cybertron, e quindi diciamo che va ancora di moda a poter parlare del buon Ultramagnus Leader. Ultramagnus Leader che appunto appena uscirono le prime foto di questa linea dove c'era appunto Ultramagnus un po' ci siamo detti noi fan, ma cavolo un altro Ultramagnus è già uscito quell'altro, il Generation Combiner Wars che poi di Combiner praticamente non aveva nulla. Però come Ultramagnus quasi definitivo ci stava, nel senso che sebbene avesse il design dei fumetti di Transformers di quel periodo, della serie a fumetti More Than Miss Di, un design rifatto da Onyc Roche o Alex Miley, comunque insomma un design un pochino che rivisitava il classico G1, scusate dicevo, come Ultramagnus poteva essere definitivo nel senso che la trasformazione si rifaceva a quella del, non quella del classico appunto G1 con la cabina che si separava e diventava un robot a parte, ovvero un Optimus Prime bianco, ma appunto inglobava la cabina stessa dentro il corpo dentro la schiena, comunque imitava ovviamente la trasformazione del G1, però appunto inglobava la cabina all'interno e comunque aveva la feature, la gimmick, la caratteristica di avere un robottino all'interno appunto ispirato sempre al discorso di come appariva quell'Ultramagnus nei fumetti, un omino che lo pilotava a modo di armatura, che comunque citava il G1 con il discorso del fatto che appunto il rimorchio è una sorta di armatura del robot bianco, dell'Optimus Prime bianco, a differenza, scusate se trema tutto, a differenza comunque invece appunto dell'Ultramagnus Masterpiece, uscito appunto quasi in concomitanza con il Generation Combiner Wars, che invece appunto si ispirava prettamente al cartone animati, dove appunto non c'era nessuna armatura, il nostro Ultramagnus si trasformava direttamente da camion bisarca in robot completo e quindi appunto la motrice era inglobata dentro il robot, sempre nella schiena comunque e non faceva nessuna armatura e invece appunto torniamo giustamente appunto nel nostro G1, nel nostro Siege e appunto il nostro Siege finalmente cosa è successo? Che finalmente dopo anni, diciamo un po', non dico tentativi, ma comunque le interpretazioni sempre del stesso Ultramagnus, abbiamo visto anche ad esempio l'Animated, insomma finalmente abbiamo avuto un Ultramagnus che diventa, la cui motrice, la parte anteriore del camion bianco, diventa un robot che è simile appunto a Optimus Prime e che appunto il rimorchio diventa una sorta di armatura, anzi non una sorta di unità, proprio un'armatura del robot e un'armatura non appunto semplicemente un power up del corpo, come fu ad esempio il G1 stesso, vediamo che semplicemente la motrice diventava la schiena, l'anima dell'armatura, ma alla fine le gambe erano vabbè lunghe verso il basso, ma le braccia erano racchiuse e al limite possiamo dire che effettivamente la testa era coperta da un elmo, ovvero la testa del nostro Ultramagnus, invece questo qui finalmente abbiamo detto, dopo anche dei svariati diciamo tentativi anche di prodotti non ufficiali, per parti, ad esempio il classico Ultramagnus bianco dell'Optimus Prime Classic, in cui ci fecero un rimorchio a parte appunto diventava un'armatura, alla fine dicevo, finalmente questo Ultramagnus ha il rimorchio che si scompone e diventa proprio un'armatura, come si vedeva da qui appunto è nato l'hype diciamo, nell'avere finalmente, eventualmente, prima o poi un Ultramagnus con l'armatura, come si vedeva nel fumetto War and Peace della Dreamwave, ancora vi parlo di quasi vent'anni fa, mamma mia, quindici anni fa Bonni di sicura. Ai tempi di Armada, pensate, insomma, dicevo, finalmente abbiamo, tornando al discorso iniziale, scusate questo cappellone introduttivo, e insomma, all'inizio tutti ci siamo chiesti, ma un altro Ultramagnus è appena uscito a questo qua, a quest'altro, e invece alla fine cosa aveva appunto di speciale? Il fatto di diventare un'armatura del robot interno. Ma intanto parliamo del robot esterno, dell'armatura dell'Ultramagnus completo, e possiamo vedere che appunto come design è praticamente classico, classico alla Siege, nel senso che il design è appunto praticamente, basilarmente iconico, classico, come abbiamo visto, come abbiamo visto in altri Siege, come ad esempio, che so, Ironhide, che ha tutte le cose, diciamo, al posto giusto, però ha svariati dettagli scolpiti che appunto lo fanno sembrare un po' più elaborato, ma di un semplice, scusate il traballamento, ecco, di un semplice masterpiece, dato che i masterpiece si fanno ai settei G1 e quindi magari sono un po' glabri per quanto... A livello dei dettagli, per quanto comunque si ispirino qualcosa riesco... Erano riusciti a metterci, chi ricordava appunto i giocattoli, e invece il nostro appunto Siege, traballo... Il nostro Siege, dicevo, si ispira ovviamente appunto al design iconico, estetico, ma è anche abbastanza a richiami appunto del classico appunto G1. A parte, vabbè, questo azzurro che è un po' più chiaro nel classico, ma è un po' più scuro questo qua, che si chiama a mano in poi cartoni imati, il blu del grosso dell'armatura del nostro, proprio potremmo vedere appunto i dettagli sulle gambe e sulle ginocchia, che si rifanno appunto al G1 classico. E abbiamo ovviamente i missili sulle spalle con i missili rossi, il lanciamissili con i missili rossi. Anche la pistola non è affatto male a livello di design, dato che si rifà ovviamente sempre col design classico della pistola del nostro G1, però è anche bella grande, a vedere comunque, come arma argentata. Inoltre abbiamo delle armi in più, dei missiloni qui, di fuciloni qui ai lati, che diciamo sono in più, giusto per dare un po' appunto di plastica al nostro, un po' più di massa, però più che altro questi serviranno, saranno riciclati poi nel remold di Galaxy Optimus Prime, che appunto grazie alla feature dell'armatura sarà un omaggio al Galaxy Optimus Prime, al Galaxy Force Optimus Prime di Cybertron. Però a proposito di plastica, una cosa che ovviamente ha fatto un po' sorcere il naso, ripeto sempre alla prima vista, con le prime comparazioni, è il fatto che il nostro Ultramagnus è un po' più piccino rispetto all'Ultramagnus, appunto omonimo, alla versione precedente di qualche anno. Questo perché, diciamo ovviamente, il nostro deve essere in scala con i Siege, nel senso che, come possiamo vedere, è praticamente una testa più alto del nostro Optimus Prime Siege, da cui un po' sono partite tutte le scale, diciamo, del resto della compagnia di Transformer World for Cybertron. È, sì, solo una testa, diciamo, un po' più grande, però è anche bello massiccio e quindi a livello di scala ci sta con Ultramagnus, con l'Optimus Prime e tutta, insomma, la cricca dei nostri Siege classici, che si ispirano ovviamente nella classe, nella scala, che si vede via nei cartoni animati. e dicevo, appunto, però, sono sempre leader, sono sempre, appunto, stesso coso, stesso personaggio, magari è meglio questo perché è più grande, e invece alla fine mi sono tolto un attimo lo sfizio, diciamo, e li ho pesati e pesano esattamente lo stesso, 345 grammi entrambi, quindi alla fine, almeno a livello, per dire abbiamo speso i stessi soldi, scusate, abbiamo preso i stessi soldi per due leader, magari questo è più piccolo, questo è più grande, invece no, alla fine la massa è praticamente la stessa, dato che il nostro comunque ha un bel robot interno che si trasforma di suo, ha quindi plastica, eccetera, e il nostro, ovviamente, Ultramagnus qui, era un pochino più vuoto, per quanto comunque faceva figura e tutto, per la sua classe, diciamo, per i robot usciti nel suo periodo, però alla fine questo Ultramagnus è meritevole, ecco, dei soldi spesi, dato che comunque è per, bene, sembri più piccolo, è comunque un leader e ha la stessa massa del precedente, quindi diciamo che il portafoglio piange relativamente. Comunque a livello di posabilità è a posto, ha tutte, ha tutte le articolazioni, ha posto giusto, classiche di Sige, abbiamo la rotazione del bacino, la rotazione dei pugni e anche l'inclinazione dei piedi, in quanto Sige, insomma, può muovere un pochino anche la testa, un po' frontalmente, e quindi è, diciamo, davvero bello come robot, magari un pochino, un po' tozzo, diciamo, come stessa, ci sono appena uscite, hanno fatto degli upgrade, non ufficiali, per allungare un pochino le cosce, rendere un po' più alto, più alto, più snello, però diciamo che comunque, il suo lavoro lo fa anche così, basilarmente, come Hasbro l'ha fatto, perché comunque Ultramanus di suo è bello tozzo, ripeto, anche come altezza ci sa tutta a livello, non è troppo più alto di Optimus Prime, ha alto una testa, però insomma è grosso, il giusto. Passiamo ora al robot interno base, iniziamo a togliere i pezzi dell'armatura, che è effettivamente tale, davvero non è affatto male, togliamo anche le armi, copri spalla, abbiamo, apriamo qui, per togliere anche i copri avambracci, è davvero interessante, proprio il discorso di, che ha, che è proprio una sorta di armatura, non è appunto come, cioè non è una sorta di esoscheletro, dove appunto, come era il G1, entrava, le braccia si chiudevano, le braccia erano per i fatti loro, ma effettivamente, l'armatura è davvero indossata, dal nostro. Qui basta semplicemente, estrarre i stivaloni, mettiamo un po' da parte, e qui abbiamo da sollevare, la piastra, che comunque è anche, i vetri dedicati, diciamo proprio la plastica, trasparente nella piastra stessa, insomma, alziamo, la parte sopra, e estraiamo quella, che è un po' duretta, ecco qui, tutta la parte, del torso che va a coprire, facciamo, vabbè, è slittato di suo, da solo, ma facciamo slittare appunto, il torso, per fare in modo, che la, il paraurti, del, del camion, slitti verso sopra, e dopo, facciamo tornare indietro, il torso, ah sì, molto carina anche questa, caratteristica, nel senso che, la cintura, si abbassa, ruota, e da quella classica, appunto, dell'ultramagnus, esce quella, del robot interno, e infine la testa, basta, semplicemente, aprire tutto, il petto, un pochino, non dico duro, ma ostica, da aprire, dato che si abbassa, ecco qua, dopo sembra più semplice, di quel che è, e estraiamo la testa, ed ecco il nostro, Optimus Prime bianco, che, diciamo, magari, non dirà niente ai più, ah sì, scusate, anche i talloni qua, saltano fuori dai piedi, magari non dirà niente ai più, però, come, in quanto Optimus Prime bianco, cioè, per questo c'è un piccolo aneddoto, della mia infanzia, nel senso che, da bambino, per la promozione, mi fu chiesto di scegliere, come regalo, se dovevo prendere, l'Optimus Prime, classico di G1 ovviamente, o Ultramagnus, e quella volta, scelsi Ultramagnus, perché? Perché fondamentalmente, Ultramagnus, altro non era appunto che, sempre Optimus Prime, bianco, però, con tanto di rimorchio, che diventava armatura, piuttosto che, magari rimorchio, diventava semplicemente, una base, e basta, e quindi, diciamo che, era più giocabile, quella volta già ragionavo, ero già un piccolo gioennio, da bambino, che ragionavo sul discorso, della giocabilità, infatti appunto, il nostro Optimus Prime, scusate, Ultramagnus, ripeto, è un Optimus Prime, fatto e finito, ma è un po' modificato, per poter entrare nel, nel, nel rimorchio, che comunque, per chi non lo sapesse, si rifà, l'Optimus Prime, questo qui, bianco, rosso e azzurro, si rifà, alla, la versione Transformers, dato che, sappiamo, che l'Armored Convoy, era, appunto, il Convoy, originale, diaclone, che era rosso, blu scuro, e nero, e che appunto, era, da noi, abbastanza famoso, dato che, si è visto più quello, che non, il Convoy normale, che diventava, appunto, Optimus, che sarebbe diventato, Optimus Prime, comunque, da qui, appunto, il nome Convoy, più famoso, per il, 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 il futuro Ultramagnus, che appunto, ereditò il nome Convoy, nella versione italiana, della GIG, da dove, Convoy, in Giappone, è il nome di Optimus Prime, chiusa parentesi, ma questi lo sanno anche i chassis, dicevo, comunque, ah sì, ovviamente questa versione qua, è quella che però, non ha le ruote, di, in plastica, non ha le ruote di gomma, non ha la faccia dipinta, né del, nell'elmo, né, quel poco di blu, che c'era, nella faccia di, dell'Optimus Prime bianco, però ripeto, alla fine, tutta sta cosa, anche questo semplice, Optimus Prime bianco, così rifatto, è davvero, molto molto bello, cioè, a me ispira, tanta, tanta nostalgia, insomma, semplicemente perché, ce l'avevo da bambino, anche se era molto più, scialbo, a livello, di colori, però comunque, sono ricordi insomma, ma comunque dicevo, comunque questo Optimus Prime di suo, potrebbe essere, sì, beh, questo Optimus Prime bianco di suo, potrebbe essere comunque di suo, di suo, un Optimus Prime fatto e finito, nel senso che, ha anche lui, tutti i dettagli al punto giusto, tutti i richiami, se si vede, se si guarda bene, ha tutti i richiami classici, nei dettagli, di un Optimus Prime, e al momento, ripeto, sempre quando uscirono le prime foto, si pensava, ma magari, cosa fanno uscire un Optimus Prime, Voyager a parte, e dopo lo rifanno insieme al leader, che si unisce, invece no, dato che questo Optimus Prime, per quanto simile, al G1, come aspetto, è ovviamente dedicato, come fattezze, per poter essere, inserito in un'armatura, insomma, dato che possiamo vedere anche, ad esempio, questi agganci qui in più, molto carino il discorso, adesso andremo a vederlo, nella trasformazione, del paraurti, che sale qui, che slitta e sale su, sulla schiena, ripeto comunque, sebbene adesso vedremo, la modalità alternativa, è un po' più, diciamo, cyberthroniana, e anche qualcos'altro, ripeto, come Optimus Prime, fatto e finito, in teoria, come robot, poteva anche starci, non dico essere venduto a parte, come un Voyager, ma quasi, dato che, comunque, ha dei richiami, diciamo già, pseudo-sarbertroniani, dato che ha, la, tutto la, il parabrezza, in plastica trasparente, che va anche, sulla panza, qui, sulla griglia della panza, però se andiamo a vedere bene, ci sono, dovevano in teoria, forse dipingere, le parti del parabrezza, che tengono sui vetri, insomma, e quindi, poteva, ripeto, passare anche, per un Optimus Prime, fatto e finito, il che, è quasi un peccato, che alla fine, non abbiano fatto, anche, il bianco, qui, come, ripeto, con i colori normali, nell'Optimus Prime, dato che, comunque, invece, il Galaxy, con voi, ha il petto rifatto, che ricorda, appunto, il petto dell'Optimus Prime, Cybertron base, che, che, però, è un pochino, un po' troppo, goffo, così, ve lo dico, almeno, a vedere dalle foto, dopo, magari, dal vivo, no, però, dalle foto, che, poi, è quello, per cui, si sono ispirati, sui fumetti, della serie regolare, di DV, in corso, almeno, nei primi numeri, dopo, non lo so, non l'ho più seguita, insomma, dicevo, comunque, già di base, questo robot, questo Optimus Prime, non è affatto male, diciamo, che ha qualche, inestetismo, nel senso, che ha, le cosce, un pochino, vabbè, i piedini, un po' piccoli, vabbè, ma che altro, le cosce, un po' grosse, e le braccia, magari, un po' lunghe, anche, e alle spalle, larghe, ma, ovviamente, dato che, deve essere la base, il cuore di un'armatura, è giusto, che abbia, un po' di ciccia, anche, rispetto, a livello, vabbè, delle cosce, ma, ma, beh, il fatto di avere le braccia, un po' lunghe, è un richiamo, potremmo dire, al classico, Optimus Prime G1. Passiamo, ora, alla trasformazione, del nostro, in motrice, è una trasformazione, un po', ovviamente, basilare, però, ha una, cosa simpatica, nel, appunto, dicevo, nel, nell'abbassare, nel, nel dover abbassare, la, il paraurti, della schiena, ah, e ovviamente, prima, bisogna sempre slittare in avanti, il torso, per far, in modo, di liberare, e poter abbassare, appunto, questo paraurti, che dopo, è indipendente, si può girare, abbiamo, perfetto, bisogna aprire, le spalle, per far, per, aprire, poi, tutto il torso, ecco qua, e far rientrare la testa, come tutti gli Optimus Prime recenti, ruota, di 180 gradi, il busto, e poi resta, non, non torna più indietro, e, le braccia, tornano all'indietro, sempre la trasformazione classica, del nostro Optimus Prime, però, possiamo vedere, che purtroppo, le braccia, restano, che guardano, restano guardare, all'indietro, insomma, non rientrano ai lati, poi le gambe, semplicemente, si alzano, e si incastrano, attraverso questi pernini, nel bacino, e si uniscono fra loro, ecco qui la nostra motrice, però, come motrice, è appunto, abbossata, nel senso, che a parte le gambe, qui belle in vista, i piedi belli alti, così, abbiamo più che altro, il discorso delle braccia, con i pugni in vista, dato che appunto, non rientrano le braccia, e anche, magari, ancora ancora, i pugni, potevano rientrare, all'interno, degli avambracci, però, ripeto, sempre, per il discorso, di avere, la posabilità, dei polsi, restano così, in vista, ma, ripeto, come motrice, non è, appunto, vendibile a parte, dato che, ha tutto il discorso, di, assemblarsi, con il resto, dell'armatura, per formare, tutto il cambio, un bisarca, armatura che si trasforma, possiamo vedere qua, il, si estende, tutta la parte, dell'armatura del torso, abbiamo, i due moduli, qui, delle spalle, che si uniscono, qua, a richiamare, praticamente, la trasformazione, del, del G1, sono solo, le gambe, del G1, comunque, dei, dei, dei più classici, appunto, ultramagnos, sono solo le gambe, che, hanno, il discorso, che si estende, le parti laterali, le formano, tutta la parte laterale, appunto, del cambio, e comunque, non è affatto male, proprio il discorso, che, riescono, sono riusciti a far salare, tutto il pannello laterale, ben ripiegato, in questa maniera, e possiamo vedere, che si uniscono, le due gambe, i due stivaloni, si uniscono, si mettono, i due moduli, delle spalle, qui, nella parte, insomma, posteriore, iniziamo, già, assemblarlo, assemblarlo, alla, motrice, le due parti, qui, del, degli avambracci, dell'armatura degli avambracci, semplicemente, vanno a nascondersi, sotto, il torso, quello che era, insomma, l'armatura del torso, e lo stesso, semplicemente, poi, diventa, la parte superiore, di tutto, il camion, il rimorchio, insomma, e ora, uniamo i pannelli, ed abbiamo, il nostro bel camion, ecco, il nostro bel camion, bisarca, che di bello ha, anche il fatto che, ovviamente, può ospitare, svariate, armi, anche se, quelle che, i lanciamissili, che dovrebbero, di solito, prendere posizione, nella parte anteriore, classicamente, vanno messi, questa volta, a metà camion, dato che, nelle parti qui, laterali, più anteriori, insomma, vanno messi, questi missili qua, adesso vi spiegherò, perché, poi, qui abbiamo, due fori, per poter sistemare, o qui, o qua, o qua, il fucile, mettiamolo qui, il fucile, onda centrale, dicevo, come si sa, ovviamente, ma, ovviamente lo ripeto, per la cronaca, il nostro, Optimus, il nostro, Ultramagnus, qui, in, Siege, per, darsi, appunto, una modalità alternativa, serbertroniana, cosa fa? Si ispira, al, RID, all'Ultramagnus, così come, dopo, vabbè, diciamo, un altro discorso, il fatto che, il suo remordo, è un omaggio al Galaxy, Force Commander, Optimus Prime, il nostro, Ultramagnus, invece, con la scusa di dire, devo avere, una modalità, serbertroniana, si ispira, invece, all, all'Ultramagnus, RID, che fu, uno, se non, il primo, Ultramagnus, nuovo, cioè, il primo personaggio, si chiamava Ultramagnus, che effettivamente, omaggiava, anche se, inventava, tutto il discorso, della trasformazione, che omaggiava, appunto, Ultramagnus, però, aveva appunto, un look diverso, come il camion Bizarca, e il nostro, appunto, vi si ispira, dato che, comunque, come in camion, è particolare, e potremmo dire, abbastanza, sibertroniano. E anche il discorso, appunto, di ispirarsi, all'Ultramagnus, RID, è, il fatto di avere, i moduli, i fucceloni, qui, laterali, in questa maniera, dato che, richiama i moduli, che erano, appunto, ai latti, subito dietro la cabina, dell'Ultramagnus RID, che, ovviamente, qui poi si alzano, e diventano, dei fucceloni. Bello il camion, niente male, come, insomma, anche come ampiezza, come leader, vabbè, ovviamente è vuoto, in quanto camion Bizarca, la fregatura, purtroppo, qual è? Il fatto che, come camion Bizarca, non è affatto giocabile, in quanto tale, dato che, può ospitare, a malapena, un veicolo sopra, come camion Bizarca, purtroppo, insomma, non è affatto giocabile, dato che, appunto, non si può aprire, il portellone, il postione, ospitare, non c'è neanche, lo spazio effettivo, per ospitare, un'auto all'interno, un veicolino, magari anche Legend, a malapena, appunto, ci sta, un'auto, neanche due, togliendo il fucile, con l'automare, andrebbe sopra, la cabina, purtroppo, diciamo che, per fare il discorso, di un'armatura, degna di questo nome, va a perderne, il discorso, della giocabilità, del camion Bizarca, che, almeno c'era, appunto, nell'Ultramagnos precedente, anche se, anche questo, a livello di, di spazio all'interno, non è che potesse ospitare, deluxe, ma appena appena, appunto, le automobili, in Legend, però, su questo, neanche questo, purtroppo, ripeto, almeno, ma la pena sopra, ovviamente, ci sta un po', però, abbiamo, comunque, abbiamo detto, svariati, postazioni, di armi, insomma, un po' di fori, insomma, per le armi, anche, i fucili stessi, le armi, qui, hanno, fori, per ospitare, per sistemare, altre armi, e quindi, praticamente, diciamo, che comunque, a parte il discorso di non essere giocabile a livello di camion bisarca, il fatto stesso di essere comunque un Optimus Prime bianco, a parte, comunque, abbastanza, che può vivere quasi vita a sé, a parte il discorso del veicolo, e comunque, di avere un'armatura degna di questo nome per l'ultramanus completo, insomma, non è affatto male, ed è davvero, assai pregevole, magari, boh, potevano fare in modo che, almeno, le parti di armatura avanzata, diventavano una sorta di base, ecco, di postazione, magari, se anche, ovviamente, giocchicchiandoci, si riesce a renderle una sorta di, appunto, postazione armata, però, se già ce la mettevano ufficiale, non era affatto male. Quindi, ripeto, questo Ultramanus, purtroppo, a livello di veicolo, non è male, ma, il camion bisarco a sé, non è giocabile, in quanto tale, però, tutto il resto, è davvero molto ben fatto, davvero bello, a livello di scala, di massa, di tutto, è davvero ottimo, come Ultramanus, è peccato che non sia stato sfruttato, nel caso animato di SIG, ma ne abbiamo già parlato, e quindi, ovviamente, ve lo straconsiglio. Grazie per aver visto questo mio video, mettete mi piace, cliccate, mi piace, condividete, eccetera, e soprattutto, ci vediamo, anche nella community di Facebook, di autorobot.it. Grazie ancora, e ci vediamo, alla prossima video recensione. Grazie. Grazie a tutti.